Eh, potrebbe prima farmi spiegare dalla Gabriele perché è un po', che se una donna sta andati a comunicare delle cose in un modo un po' più assurretto, io ti posso dire, io ti dico solo questo, è quando tu volete andarti a sposare per tanti uomini, molto paura, e dopo sei andato a toccare il centro, Buon Helena non stava andato a nicIa, sono venuti i cazzi. E questo è quello che dice per te? Si, mamma! Hai capito, ha capito, è un meccato, fa şeyler. Tu non so farai frequentemente maggiore. Tipo, i cazzo non è port �ckm bedo, a portugués non mi stai insinuida. Ero un ubicazzo,裡 lo rompi è casa, adesso. Dico questo, quando loro decidono è questo, e noi siamo i figli, a dire, a criticare. Deco, si raffaccia!